Il settore agricolo ha dimostrato di essere un bacino per le offerte lavorative per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore. Lo sostiene Maria Latizia Gardoni, presidente dei Coldiretti Marche, che ha preso parte all'evento Il Territorio a Tavola durante il forum dell'innovazione, della biodiversità e della ripartenza all'Istituto Panzini di Senigallia. Sicuramente l'agricoltura, il settore agricolo ha già dimostrato di essere un bacino di offerte lavorative per i giovani che vogliono avvicinarsi a questo settore. L'incremento delle nuove generazioni nel settore agricolo è aumentato di moltissimo negli ultimi 15 anni anche nella regione Marche. Oggi abbiamo circa 10.000 agricoltori sotto i 35 anni nel nostro territorio regionale e queste opportunità continuano ovviamente ad essere possibili per i giovani, tanto che anche nella nuova PAC, quindi nella futura programmazione comunitaria, come Coldiretti Marche, abbiamo lavorato con la regione Marche affinché un plafond di risorse importanti potesse essere destinato proprio ai giovani che volessero insediarsi o che vogliono insediarsi nel settore agricolo. Per cui oggi ci sono le risorse e i finanziamenti disponibili per poter agevolare il loro ingresso nel settore agricolo e poi ovviamente una serie di servizi che Coldiretti è in grado di mettere in campo per aiutare questo percorso di avvicinamento ai giovani che sono interessati a diventare agricoltori.